Sono le 5 del mattino, una decina di minuti fa Yannick Sinner ha vinto in 2 ore e 34 minuti il suo match di primo turno all'Open d'Australia. Ha vinto direi in maniera convincente, anche se ovviamente non giocava più una gara vera dalla fine di novembre, ma insomma ha vinto 6-4, 7-5, 6-3 contro Van de Zanschulp, una partita non così facile come del resto era prevedibile. Il primo set è stato quello che Sinner ha giocato certamente meglio, ha cominciato subito bene perché ha strappato immediatamente il servizio a Van de Zanschulp, poi ha rischiato per la verità di subire il controbreak immediatamente nel secondo game perché come sempre accade è quando due giocatori sono ancora freddi che ci sono maggiori possibilità per un break. Comunque poi dopo invece è riuscito a tenere sempre il servizio, non ha più concesso palle break in quel set e Sinner ha portato a casa il primo 6x64. Nel secondo non ha mai perso il servizio e non ha mai nemmeno rischiato di perderlo perché ha tenuto le proprie battute molto facilmente, sempre a 30 in 4 occasioni e a 15 in una quinta, quindi tranquillo direi e gli è bastato sul 5 pari e conquistarsi una palla break per strappare la battuta all'olandese che già nel primissimo game del secondo set aveva rischiato di perderlo una volta. Poi nel terzo set c'è stato il suo unico momento di blackout perché dopo aver mancato quattro palle break di cui tre consecutive nel primissimo game del terzo set è stato lui a perdere la battuta e a zero addirittura. Quindi lì insomma si temeva che l'olandese potesse tornare in corsa invece immediatamente Sinner gli ha strappato la battuta, poi è andato addirittura subito un altro break avanti, lui 3 a 2, 4 a 2, ha avuto anche due palle per il 5 a 2 e poi ha vinto 6 a 3. Due ore e 34 minuti, ripeto, ci sono stati 26 vincenti ciascuno con Van de Zanschul perché prendeva molti rischi col dritto ma ne sbagliava anche tanti. Di errori alla fine ne ha fatti 45, Sinner 37, quindi una partita di qualità così e così Sinner mi è sembrato qualche volta un po' lento all'uscita del servizio se Van de Zanschul riusciva ad attaccarlo subito, ad anticipare quella risposta, qualche problemino Sinner l'ha avuto. Ha sbagliato anche un paio di palle corte, quelle giocate con il dritto, però poi ha fatto anche dei punti importanti e in particolare c'è stato anche uno scambio bellissimo nel terzo set. Per essere, ripeto, era un primo turno non facile contro un giocatore che è stato numero 22 del mondo che vale sicuramente più della sua attuale classifica. Adesso dovrà giocare Sinner, ma a quest'ora io ancora non lo so perché dovranno giocare più tardi, o contro di nuovo un olandese, cioè De Jong, che è uscito dalle qualificazioni numero 148 del mondo, oppure contro l'argentino Cacin, che è numero 72. Francamente il secondo turno sembra più facile che non il primo, poi nel tenese non si sa mai, è meglio non sottovollatare nessuno. Sinner alla fine partita ha detto che era contento, che era felice, di come aveva giocato, che poi gli hanno chiesto, il vuole in mazzurli, ha chiesto se sapeva, si rendeva conto che aveva molti appassionati che tifano per lui anche in Australia, soprattutto perché ha un coach come Darren Cahill, che è australiano, e gli ha chiesto quali erano i rapporti e poi Sinner è stato spiritoso, gli ha detto che sta imparando un pochino anche di italiano e soprattutto sta imparando quale tipo di pasta si debba mangiare e probabilmente cucinare. Vabbè, a parte questo, insomma, invece, cos'altro è successo? Beh, nelle prime ore, perché sapete che Sinner giocava il primo match sulla Road Level Arena, è successo che Arnaldi ha vinto in tre set, 7-6, 6-2, 6-4, in 2 ore e 39, 5 minuti di più di Sinner, contro la wild card australiana Walton, che gli ha creato dei problemi soltanto nel primo set, nel quale è andato anche a servire per il set, dopo che sul 5 pari aveva strappato la battuta a Arnaldi. Giocava bene di rovescio questo ragazzo australiano, ma insomma poi abbastanza modesto per il resto, brutta notizia invece per la Bronzetti, che dopo aver vinto il primo set contro la Zurenko, 6-3, ha poi perso, 7-5, 6-3, secondo e terzo. Bene, è tutto, io vado a dormire, signori, voi seguite su VTennis Tutto.